Salve, prego si accomodi, benvenuto nella mia farmacia Sì, aveva bisogno, cosa cercava? Sì certo, ah mi faccia, posso controllare un attimo? Sì, si piega un po' la testa un attimo Sì ok, sì sì, qualche puntino bianco sì, ma lei con che shampoo li lava i capelli? Ah, caspita, quello ha genti schiumogene aggressivi signora Eh sì, rende i capelli, certo Al prurito? Eh vedo che si gratta, sì Caspita, è venuta nel momento giusto, è al momento giusto, nel posto giusto Ok, allora, abbiamo uno shampoo per lei, anzi l'abbiamo tanti per lei Mi dica, lei ha provato altri shampoo, di altre farmacie, arboristerie Ha chiesto al medico di famiglia? No, niente Il medico l'ha visto, l'ha controllata? No Ha visto magari qualche altro medico specifico per la cute? Qualche dottore specifico per questo problema? No, ok, allora, prima di tutto Io le consiglio vivamente domani mattina Di andare dal medico su di famiglia personale Sì, di famiglia A fargli controllare questi capelli Se magari ha qualche allergia Se magari ha un problema più grave Rispetto a solo un po' di forfora Rispetto alla forfora Che sia un problema però Ce l'hanno in tanti questo problema Non è un grave problema, diciamo così Quindi io mi farei controllare prima dal medico Se il suo medico Le prescrive dei prodotti da prendere Tipo shampoo Senza agenti schiumogeni e aggressivi Allora torna qui da me Tanto domani ci sono io di nuovo Quindi può venire sicuramente da me E vediamo che shampoo Le posso consigliare Però prima vada domani dal medico Li lavi magari stasera Perché vedo che sono un po' secchi Sì, un po' attaccati alla testa E quindi secondo me è sintomo di Che li deve lavare Però li lavi con pochissimo shampoo Pochissima schiuma deve fare lo shampoo E li resciacqui bene Non lasci mai lo shampoo sui capelli Perché li secca E fa male Brava, esatto Quindi vada prima dal medico Domani poi ci vediamo di nuovo noi Sicuramente la manderà da me Per prendere qualcosa Per la forfora Non si preoccupi La fermiamo noi La caduta dei capelli Anche la forfora La fermiamo noi Sì, lo so Mi diceva prima Che aveva perso già dei capelli L'estate scorsa Ma quello può anche essere dovuto Al temperature Al cambio di stagione Quindi non è una cosa grave Non si deve preoccupare Lei sia tranquilla Adesso mi dica Se ha altri problemi Se devo Se posso aiutarla in qualche altro modo E domani mattina Appena si sveglia Fa colazione Vada al medico Così Li controlla Su cui ho capelluto E vede Se ha qualche allergia Se ha qualche crosta Qualche bustola Qualcosa Se non ha niente di grave La manderà in farmacia Qui da noi Tanto nel paese L'unica farmacia Siamo noi E le consiglierà Sicuramente uno shampoo Solo antiforforo E basta Che così lavati i capelli Due tre volte a settimana Lo shampoo antiforforo Ma serve Appunto per togliergli Questi pallini Che ogni tanto Spostando i capelli Si vedono Ok Ne serviva qualcos'altro A parte lo shampoo Si Il termometro Si è rotto Quello che aveva Quindi Gli ne serve un altro Ok Ne abbiamo diversi Quello semplice Piccolo blu Che aveva anche lei Mi ha detto Ah è vero L'ha comprato qui L'anno scorso Due anni fa Ok ok E lo vuole di nuovo Fatto così Come quello che aveva O lo vuole Tecnologico Diciamo Più nuovo Ok Vi faccio vedere questo Va a ruba Soprattutto per chi Ha i bambini A casa Ed è la Sanitas Un'ottima marca Ed è un multifunctional Thermometer Thermometer 30 memory space 6 funzioni Più una Blu Illuminated Display Si illumina di blu E di verde Il tasto Visual temperature Allarm Red Se hai la febbre È verde Se non hai la febbre Quindi rosso Se hai la febbre È verde Se non hai la febbre Si può mettere Sia sulla fronte Adesso le faccio vedere Come si usa C'è anche comunque Su questa è una scatola Diciamo il tester Però Se le serve Da portare a casa Glielo do Con la scatola Nuova Ovviamente Non gli do Questa qui rotta Vedete questo qui Vedete Com'è tecnologico Si è nuovo Vedete praticamente Allora C'è il suo Pucciardino Il libretto di istruzioni Ok Questo Deve leggere sempre Il libretto di istruzioni Prima di usare Questi Strumenti È questo qui Sì Ovviamente C'è anche la sua plastica Nella confezione Nuova Però Questo lo usiamo ormai Per tutti i nostri clienti Da provare Ed è fatto così Con questa forma Ergonomica Ok Da qua si schiaccia Per metterlo sulla fronte E per metterlo dentro Alle orecchie Si schiaccia questo tastino Adesso vi faccio vedere Per le orecchie Bisogna Smontare questo pezzetto E si mette questa parte qui Per così Ok Dritto così si mette È molto bello Molto comodo È un pochino più spesso Rispetto a quelli soliti Che sono più piccoli Però è più tecnologico Le faccio vedere come funziona Certo Le piace Questo costa 20 euro L'altro costava sì Solo 10 Perché è più piccolo E ha meno funzioni L'altro si poteva anche mettere Sotto le ascelle Sì È molto più antico Diciamo Questo qui ormai Si mette Nell'orecchio Anche per gli adulti Anche per i bambini Soprattutto E poi si mette qui E si può fare Il giro Vedersi ha la febbre Poi lampeggia Glielo faccio vedere Si illumina Schiacciando qui Ok 11-2 21 Sì ok Fa tutto Fa tutta l'ora Vedete che comunque Si illumina Deve schiacciare un po' forte Allora Adesso Proviamo Così Schiaccia una volta Questo magari avrà una batteria scarica E appunto Quando è scarico Fa low Comunque si L'ampeggia di blu Si mette qua E si schiaccia Ok 36,6 Vede Non ho la febbre io Nell'orecchio C'è lo stesso metodo Così Così Ok E dice 36,8 Non è febbre E in più Se c'è questo Se c'è questo pallino verde Come dicevo prima Non hai la febbre Se lo provo anche magari su di lei Proviamo un po' Nell'orecchio 36 No Non ha la febbre Ok Perfetto Vediamo un po' 36 36 Sì Vedi Come me Anch'io 36 Non abbiamo la febbre Fortunatamente Comunque hai visto E' molto utile Questo qui Adesso Devo andarlo a caricare Questo qui Che ha la batteria scarica Però Si può anche fare così Guarda Così 36,6 Hai visto come ho fatto Così Ho spostato Ho tenuto premuto Poi ho schiacciato Vedi 36 36 Non è febbre È debolezza Nell'orecchio Anche O in uno Nell'altro Lo schiacci 36,7 Non è febbre Tu comunque Lo devi fare due volte E non di più Io l'ho fatto Tante volte Per farti vedere Questo è molto utile E costa 20 euro Ok Molto tecnologico Molto bello Sì Ti prendo la scatola nuova Ok Perfetto Per il termometro Non serve neanche La visita dal medico Non serve neanche Che ti faccia una visita E che ti prescriva Lui il termometro Quando si rompe Vieni qui In farmacia O in parafarmacia Te lo vendiamo Comunque Ti volevo far vedere Lo shampoo Che sicuramente Ti consiglierà Il medico Per la forfora E questo Di questa marca Sporax Si è spento il termometro Si spegna solo 125 ml Si chiama Sporax Questo qui Questo qui Non voglio far troppo rumore Si è un bel parattolone Da 125 ml Domani Domani te lo faccio vedere Si Ogni problema Ogni problema Come si usa Dopo A presto A presto Vai dal medico Domani Mi raccomando Vedrai che si risolve tutto Ciao A dopo A presto